Oggi faremo un percorso resistente qua nella località Basia, partiamo dall'azienda, faremo un giro lungo la valle dove con degli intermezzi musicali di Turegliaia, Simone Apa e Valentino sono pagati. Valentino che fai oggi? Non lo so, forse faccio una partigiana e quella cantautonale. Io anche parteciperò oggi con delle parentesi musicali, però ho tutto da scoprire perché non lo so neanche io, lo scopriremo insieme. Un contratto leggermente in salita per i bambini, ma si fa, io lo faccio per i bambini piccoli degli asili, quindi... Grazie! 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti.